e anche tutti gli altri concorrenti ovviamente un applauso per voi sei contenta? ora arriveranno le coppe eccola qua brava allora vi facciamo ricattare se avete voglia si Francesca giusto? ok hai capito? è di qual è? ok ti lascio ricattare e poi facciamo gli altri tre vincitori grazie 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 Grazie. 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 Grazie.